Nel giorno delle entrate in vigore della ZTL nel centro storico, lungo corso telesio ci sono più auto che persone a passeggio, i cartelli sono bene in vista, ma poco effetto sortiscono nei confronti degli automobilisti. Non ci sono dissuasori o telecamere, ma i vigili monitorano la situazione di veicoli in transito o in sosta, privi dell'apposito permesso per i residenti, rilasciato da Palazzo dei Bruzzi, saranno sanzionati. Intanto, solo per una coincidenza, già che l'appuntamento era stato programmato già il mese scorso, all'Accademia Cosentina si sono riunite una serie di associazioni di cittadini per costituire un osservatorio sul centro storico, un organismo che ha l'obiettivo di analizzare la qualità degli investimenti, delle ingenti risorse in arrivo per risollevare Cosenza Vecchia. Oltre ai 90 milioni stanziati dal Ministero dei Beni Culturali ci sono anche i finanziamenti dell'agenda urbana, soldi pubblici da impiegare non solo per il recupero degli edifici, ma anche per contrastare il degrado sociale, malcelato tra i suggestivi e purtroppo malmessi vicoli del Borgo Antico. La funzione dell'osservatorio Cosenza Vecchia, cittadini per la rinascita del centro storico, questa è la dizione precisa, si ripromette di studiare le politiche urbane per il centro storico di Cosenza, soprattutto, ma non soltanto, alla luce dell'enorme massa di denaro che dovrebbe positivamente abbattersi sul centro storico di Cosenza. Queste risorse vanno impiegate con un cosiddetto approccio integrato, cioè un approccio che aggredisca i problemi del centro storico di Cosenza da più punti di vista, va valutata la qualità della vita, dal punto di vista dei cittadini, non dal punto di vista del legislatore. Salvatore Bruno per la Cineus 24.